E se vi dicessi che a breve sarà possibile utilizzare sistemi cloud come GeForce Now, come Stadia, addirittura accedere all'Epic Game Store attraverso i vostri Xbox, ci credereste? Beh, perché potrebbe effettivamente diventare realtà, e anche molto presto. Entriamo nel dettaglio. Tutto questo è possibile attraverso l'ultima versione del browser Microsoft Edge, la versione Microsoft Edge Chromium, attualmente in fase test proprio sulle console next-gen di Microsoft. Quindi è già funzionante, già perfettamente funzionante con qualche magagna qua e là. Ma il problema non sono quelli che potrebbero essere degli intoppi tecnici. Il problema è in che modo Microsoft accetterà che attraverso la sua console possa essere possibile accedere allo Store Epic, per esempio, o alla libreria Steam. Quindi effettuare degli acquisti attraverso Xbox al di fuori dell'ecosistema Xbox. Naturalmente sarà molto interessante capire in che modo Microsoft si muoverà da qui in avanti, perché non è detto che il gigante di Redmond alla fine non disabiliti queste compatibilità nel momento in cui Microsoft Edge raggiungerà la sua versione finale e di conseguenza verrà distribuito a tutti gli utenti possessori di una Xbox Serie S e un Xbox Serie X. Di solito, di solito, le aziende che producono console, l'ultima cosa che vogliono è lasciare la libertà ai propri utenti di acquistare nuovi videogiochi su Store che non sono quelli loro ufficiali. Quindi in questo caso il Microsoft Store da cui è possibile acquistare tutti i giochi Xbox. Insomma, è vero che Microsoft ultimamente predica questa amicizia globale e sta cercando di pungolare gli avversari Sony e Nintendo in modo da farli aprire al Game Pass, a Project X Cloud. Però un conto è dirlo, un conto è farlo. Per questo è molto interessante capire se alla fine deciderà di seguire i suoi ragionamenti fino in fondo, lasciando Microsoft Edge totalmente compatibile con i sistemi GeForce Now oppure, insomma, cambierà idea strada facendo da qui all'uscita della versione finale di questo browser per le console next-gen targate Microsoft, quindi Xbox Serie S e Xbox Serie X. Per essere ancora più chiari, accedendo al servizio Cloud GeForce Now è possibile giocare a una grossa parte dei giochi disponibili su Epic Game Store o su Steam. Quindi tu acquisti il gioco su Steam e poi ci giochi attraverso GeForce Now praticamente dove vuoi. L'importante è che tu abbia un browser compatibile. Microsoft Edge è uno di questi. E questo vorrebbe dire poter, per esempio, acquistare Death Stranding con la versione PC di Cyberpunk 2077 su Steam e poi giocarla in tutta tranquillità su Xbox. E questo deve andare bene sia a Microsoft che a Sony perché non credo che Sony sia contenta nell'apprendere che le sue esclusive, oggi è solo Death Stranding, visto che Horizon Zero Dawn e Detroit non sono compatibili con il sistema, però Death Stranding sì, non credo che possa essere contenta nell'apprendere che milioni di giocatori possono accedere a una sua esclusiva senza aver comprato una console o comunque senza l'escamotage di utilizzare una piattaforma agnostica come il PC. Insomma, situazione estremamente mobile che richiede naturalmente i vostri commenti, potete lasciarli qua sotto. E mi raccomando, continuate a seguire Multiplayer.it. Alla prossima!